La Correra è un'azienda che opera nel mercato dell'edilizia e dei derivati dell'edilizia da 50 anni. Noi siamo la seconda generazione che porta avanti con questa azienda. Ha 12 dipendenti, ha un fatturato che oscilla da 1,8 di 2 milioni e mezzo di fatturato, ha solo un punto vendita e si riserva delle strategie future di ampliamento. I nostri clienti partono dalla semplice ditta individuale alla grossa impresa del settore, agli appalti pubblici. Facciamo anche vendita online. I clienti online sono prettamente piccole imprese, privati. La vendita di prodotti ad oggi, diciamo di prima battuta nell'online, sono quei prodotti di consumo, come la rubinetteria, magari il mobile bagno, l'arredo in sé. Vendiamo online anche il cemento e la richiesta ovviamente è inferiore da quella del punto vendita, anche per un fattore logistico e di distribuzione nel territorio di quantità. Il plus dell'ecosostenibilità del cemento è concepito dai clienti con un buon 50% ad oggi.